Proseguono le mostre itineranti del Consiglio regionale, concesse in prestito gratuito e allestite presso enti piemontesi, fino al 28 febbraio alla Biblioteca Civica di Ceva, Cuneo, esposta a Piazza del Piemonte. Le immagini dell'alluvione del 94 sono allestite sempre fino al 28 febbraio presso la Sala del Consiglio Comunale di Front, nel Torinese.